A ognuno il Signore dà sempre la parola giusta, semplice o complicata che sia, è quella che serve per crescere nella fede. A conclusione degli esercizi spirituali dal 5 marzo presso la casa del Divin Maestro ad Ariccia, Papa Francesco ha voluto ringraziare il padre francescano Giulio Michelini che ha guidato le meditazioni quaresimali. Voglio ringraziarti per il bene che hai voluto farci e per il bene che ti hai fatto. Prima di tutto per farti vedere come sei, naturale, senza faccia di maginetta, naturale, senza artifici. Con tutto il bagaggio della tua vita, gli studi, le pubblicazioni, gli amici, i genitori, i giovani fratri che tu devi custodire lì, tutto, grazie, grazie per essere normale. La mattina Papa Bergoglio aveva celebrato la messa per la Siria inviando 100.000 euro ai poveri di Aleppo grazie anche al contributo della Curia Romana. La donazione, reso nota alla sala stampa vaticana, sarà effettuata tramite l'elemosineria apostolica attraverso la custodia di Terra Santa. Grazie a tutti.